In un mondo scosso dal fragore del conflitto, la guerra in Ucraina rappresenta una delle sfide più critiche del nostro tempo. Le notizie recenti rivelano un attacco ucraino a un deposito di carburante nella regione di Voronezh, segnando un ulteriore escalation delle tensioni. Tale azione, sebbene drammatica, non è isolata, ma parte di un ampio mosaico di conflitto che sfida le leggi della normalità. Questi attacchi portano alla luce non solo la brutalità del conflitto, ma anche le sue ripercussioni infrastrutturali. Le autorità ucraine, di fronte a una crisi idrica crescente nella regione di Donetsk, mettono in guardia su una possibile catastrofe umanitaria. Infatti, gli attacchi russi alle strutture idriche stanno avvicinando circa 260.000 persone al precipizio della privazione. Pertanto, l'approvvigionamento d'acqua diventa un nuovo campo di battaglia. Una risorsa essenziale che definisce la sopravvivenza stessa e che annuncia un inverno di sfide senza precedenti. Ma non è solo l'acqua diventare una linea del fronte. Il conflitto militare continua a imperversare con una furia spietata. I dati del Ministero della Difesa russo testimoniano una devastazione impressionante, con la perdita di oltre 16.000 soldati ucraini in appena una settimana. Queste cifre, se da un lato tentano di sottolineare la forza delle armi russe, dall'altro rivelano l'intensità con cui entrambe le parti difendono le proprie posizioni. Tuttavia, la risposta di Kiev è altrettanto risoluta. L'intensificazione dell'uso di droni contro obiettivi russi, confermato dagli abbattimenti nelle regioni di Kursk e Belgorod, dimostra la determinazione ucraina nell'adattarsi e rispondere con risorse tecnologiche avanzate. Questa strategia non solo destabilizza le forze russe, ma incarna anche un approccio di guerra moderna che ridefinisce l'antico confronto tra uomo e macchina. Il quadro più ampio di questi sviluppi sottolinea la crescente difficoltà di trovare soluzioni diplomatiche. Con ogni nuovo attacco, con ogni infrastruttura colpita, si approfondiscono ferite che tempo e negoziati difficilmente rimargineranno. La domanda che si pone è quanto potranno durare queste tensioni prima che la comunità internazionale intervenga con misure più incisive. O forse, più provocatoriamente, come affronteranno coloro che vivono in queste regioni devastate dall'inflessibile morsa del conflitto, il futuro che li attende. Mentre il fumo degli incendi e i suoni delle esplosioni continuano a dominare l'orizzonte, ci dobbiamo domandare qual è il limite della resistenza umana in un conflitto che sembra non conoscere la pace.